Stefano Allasia, come commenta le proteste Notab avvenute oggi in Piemonte? È un atto gravissimo perché ci sono due eventi nella stessa giornata in poche ore di distanza, arrivole con il ritrovamento di due molotov e il fermo e il danneggiamento di un convoglio che arriva dalla Francia. Da parte dei manifestanti Notab ci deve essere la presa di posizione da parte delle forze dell'ordine, soprattutto da tutte le forze politiche che sono non tanto a favore o contrari dell'infrastruttura Notab ma indubbiamente ci deve essere un blocco di queste manifestazioni violente, cosa che stanno creando anche disagi oggi sui viaggiatori.